Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo alla Mesa Terme, qui oggi proprio a una riunione di Potere al Popolo al quale siamo stati invitati in compagnia di Gian Mario Foti che parteciperà a questa riunione e a questo punto io vorrei chiederti, siccome sei un ragazzo e sei giovane, perché hai deciso di votare Potere al Popolo e perché soprattutto partecipi attivamente rispetto magari ad altri che preferiscono rimettere un like su Facebook però poi non scendono in piazza? La scelta è naturale anche rispetto al mio percorso e alla mia storia politica, nel senso che dentro Potere al Popolo sono confluiti tanti compagni e tante compagne da tutta Italia, tanti movimenti, nonché gruppi organizzati che in questi anni sul territorio ci sono stati e hanno sempre lavorato sul territorio. Quindi in questo momento Potere al Popolo semplicemente rappresenta l'unica alternativa a sinistra che esiste nello scenario delle prossime elezioni e soprattutto è un progetto che si è dato l'obiettivo, al di là del risultato di domenica prossima, di continuare, di resistere e di costruire un progetto reale di cambiamento che parte dai nostri bisogni, cioè non andiamo a rappresentare chissà che cosa, partiamo proprio dai bisogni perché quando parliamo di popolo parliamo di noi come giovani precari, parliamo di noi come persone che non andranno mai in pensione, quindi partiamo dai nostri bisogni e vogliamo costruire un'alternativa. Volevo chiederti se mi dovessi elencare quali sono le battaglie di Potere al Popolo, almeno una che magari ti rappresenta un po' di più e che hai sentito tua perché non so, l'hai vista in piazza o comunque l'hai fatta tua. Per la fase della vita che vivo, non solo io, sicuramente la battaglia che reputo prioritaria in questo momento è quella sul lavoro, e sul diritto al lavoro. Nel programma ovviamente c'è l'abolizione del Job Act, però non basta descriverla solamente così perché magari è un punto in comune poi a tanti programmi. C'è un'idea diversa del lavoro, c'è un'idea del lavoro come strumento di dignità, quindi che supera anche il concetto per esempio di reddito, di cittadinanza fino a se stesso, chiediamo il lavoro come dignità, non si vuole essere mantenuti. Il lavoro come riscatto è anche della nostra condizione brutta, però del nostro essere meridionale. Cioè il lavoro come strumento per poter restare, per poter vivere nei propri territori, per poter contribuire alla crescita del nostro territorio. Dal lavoro parte tutto, parte tutto, è il diritto per definizione. Adesso vi lancio una provocazione. Siccome Salvini si è presentato anche qui in Calabria e parla dei meridionali, però il più delle volte i meridionali sono stati traditi proprio da partiti che alla prima elezione di turno hanno semplicemente raccimolato voto per mettere questo, quel personaggio in quel determinato posto strategico. Quanto invece conta che un partito come potere al popolo può dare al piccolo, a quello che magari non ha l'amicizia, ma vuole essere, come dicevi tu poco fa, parte di un lavoro che dà dignità alla persona e non vuole magari sentirsi mantenuto da un contributo statale fino a se stesso e che lo sminuisce? Il principio è esattamente questo. Cioè parlare di lavoro non come moneta di scambio durante una campagna elettorale. Il lavoro come un diritto. Quindi lavorare per costruire una società dove il lavoro è un diritto, dove il lavoro oltretutto non è qualcosa per cui si vive. Nel senso che uno degli slogan con cui è nato potere al popolo era anche lavorare tutti, lavorare meno. Il lavoro come possibilità di poter vivere bene, ma quello stipendio che ti guadagni poi potertelo anche godere, altrimenti ha poco senso. Infatti noi non abbiamo fatto nessun tipo di promessa e non la faremo mai. Non andiamo al governo, cioè non ci prendiamo in giro. Però la nostra presenza in Parlamento potrebbe portare proprio esattamente questo punto, cioè rompere le scatole a chi fa promesse, fa promesse, smascherare chi ha sempre solo fatto promesse e portare delle proposte reali che sono anche frutto dei percorsi che quotidianamente sui territori ci sono, anche di chi per esempio il lavoro è riuscito a crearne attraverso strumenti alternativi, da chi è tornato a fare economia solidale, di chi è tornato a fare un'agricoltura sostenibile, di chi è deciso di restare qui per fare questo. Esistono tante forme che conciliano il diritto al lavoro con il diritto a un mondo un po' più giusto. È stato detto tutto. A questo punto Riccardo Cristiano, Liberi TV, La Mezzia Terme. Grazie a tutti.